Bentornati a Economy Up. Il lavoro si trova in maniera diversa perché il lavoro è cambiato, anche per chi il lavoro ce l'ha già. In occasione del Digital Summit d'inizio ottobre a Capri, l'amministratore delegato di UI Donato Iacovone ha ricordato che il 30% delle competenze in azienda sono obsolete. Vuol dire che 3 persone su 10 in azienda fanno un lavoro inutile, mentre c'è un 10% di competenze che non si riesce a trovare.